Grazie e buonasera a tutti, grazie a tutti per aver partecipato a questa iniziativa, è un immenso piacere per me continuare a collaborare con la Fondazione Mondo Digitale, abbiamo cominciato nel 2018 e anno dopo anno è stato un crescendo di continue emozioni e soddisfazioni. Siamo partite con Coding Gears, siamo arrivate oggi a questa attività sulla cyber security e speriamo di poter continuare questa fruttosa collaborazione anche in futuro.